speriamo che buongiorno qualche minuto di ritardo ma insomma il tempo non ci aiuta Stefano Tamiazzo, direttore artistico della serie di Padova di Scuola Internazionale di Comics, oggi con Alessandro Moro, detto anche Alex ciao Alex, benvenuto Alex è uno dei nostri insegnanti del corso di Music Production un biennio dedicato alla musica in ambito videoludico in modo molto ampio, ovviamente si occupa anche di videogame ma si occupa anche di cinema di pubblicità e di qualsiasi cosa abbia a che fare con davvero quello che è una sorta di magia, perché togli il suono dalle scene e davvero non riesce a capire quasi quello che succede potrebbe essere drammatico come umoristico Alex si occupa al corso insieme a Francesco Scarpa che si occupa invece della parte di sound design della parte di composizione e di fatti oggi ve lo faccio vedere è un incontro di quasi due ore sulla composizione per videogame e io direi che Alex se vuoi condividere lo schermo io come dire che sono inutile ma rimango fuori dallo streaming per controllare e per passarti magari le domande e che se qualcuno avrà voglia di farcele rientrerò per cui aggiungo questo macchinario meraviglioso Alex io mi escludo ma sai che sono con te perciò se mi vuoi chiedere qualcosa sai che sono qui intanto ti chiedo se si vede lo schermo si vede lo schermo e ti si sente benissimo fantastico incredibile a posto Alex a fra pochissimo ciao grazie mille allora sì come diceva giustamente Stefano il corso riguarda anche la composizione per videogiochi al quale appunto questa masterclass è dedicata questo workshop è dedicato e naturalmente il corso non si occupa solo di questo si occupa della produzione musicale a 360 gradi quindi stiamo parlando della produzione in ambito discografico quindi produzione di artisti di gruppi di beat making e quant'altro e dopo ci sarà anche la parte di sound tracking quindi dedicata a film a serie tv a documentari e a videogame che per l'appunto come vedremo oggi hanno tutto un loro mindset e tutta una loro filosofia diciamo dietro che per l'appunto vi esporrò in questo workshop naturalmente se avete domande siate liberi di domandare quello che volete allora io pensavo di dividere questo workshop in due fasi distinte allora nella prima fase noi andremo ad analizzare tre brani che ho composto appunto a scopo videoludico di tre generi diversi per esplorarne un po' le particolarità a livello di sound design a livello di elaborazione anche degli orchestre in quanto effettivamente oggigiorno nei videogame viene usata molta sintesi molti sintetizzatori questo è vero ma nei triple A ovviamente l'orchestra hollywoodiana è sempre un must è sempre una cosa che chiunque ambisce a fare questo lavoro deve saper controllare deve saper fare quindi come dicevo avremo tre generi diversi tre brani che tra l'altro sono anche potete trovarli anche su Spotify sulla mia raccolta se qualcuno è interessato può farlo e questa sarà la prima parte quindi esploreremo qualche particolarità di sound design che viene spesso utilizzata da me e anche da altri professionisti allo scopo di ottenere proprio il tipico sound videoludico barra hollywoodiano insomma che ormai vanno molto a braccetto la seconda parte invece verrà proprio dedicata all'implementazione vera e propria di una colonna sonora per videogame quindi praticamente vedremo come la musica si adatterà alle scelte del giocatore e faremo una piccola simulazione di che cosa succederà proprio all'interno del gioco facendo tre esempi distinti per esempio il classico open world dove chiaramente il nostro personaggio è controllato da noi giustamente vuol dire che un brano non avrà un inizio e una fine ma dovrà adattarsi perfettamente alle condizioni che noi imporremo appunto al personaggio alle scelte che noi giocatori stiamo perseguendo quindi in pratica potrebbe essere che abbiamo una sezione di esplorazione noi siamo immersi in questo mondo e stiamo esplorando e quindi ci saranno dei brani molto placidi molto tranquilli molto atmosferici a un certo punto c'è un gruppo di nemici ok c'è un gruppo di nemici nella zona e quindi parte la fase stealth quindi la fase in cui noi dovremo nasconderci per non farci scoprire cercare di passare inosservati verso le zone successive quindi lì ci sarà un cambio radicale di mood ci sarà una musica molto più di tensione molto timeless dopo vedremo in che modo e cosa significa a un certo punto i nemici si scoprono e quindi parte la fase di combattimento saremo costretti a combattere e di conseguenza lì ci sarà un brano decisamente più energico più incalzante molto più ritmato che appunto scandirà il nostro appunto combattere e nel qual caso ci sarà una vittoria da parte nostra allora il brano arriverà alla sua conclusione e quindi così come per magia in qualche modo il brano finirà esattamente come fosse un brano vero cioè prima tutta la sequenza è un loop continuo cioè quindi è una parte che ogni volta che finisce viene ripetuta ed è scritta in modo che una volta finita la sequenza e ripresa in realtà sembra che il brano continui ad andare avanti all'infinito quindi che non ci sia una vera e propria fine finché noi combattiamo questo brano continua a suonare esattamente come se ci fosse una sorta di orchestra virtuale sotto che finché il giocatore continua a intraprendere quest'azione l'orchestra continua a suonare ad libitum però nel momento in cui vinciamo giusto preciso nella battuta in cui deve concludersi ci sarà un finale quindi tutto il brano dovrà essere progettato in questo modo una volta finita appunto tutta questa sequenza una volta giunta la fase di vittoria immediatamente il pericolo è scampato e ritorna alla fase di esplorazione in cui per l'appunto ritornerà la sequenza musicale di esplorazione queste e altre cose le vedremo tra poco intanto volevo analizzare tre colonne sonore diverse la prima che potete vedere qui è un temino così molto in stile MMRPG quindi stiamo parlando di orchestre sinfoniche ok composte secondo dei canoni hollywoodiani diciamo e qui ci sarà qui praticamente vabbè non ci sarà un grande sound design da spiegare ma piuttosto come è stata un po' progettata l'orchestra faccio sentire una piccola sezione intanto adesso se cortesemente Stefano riesce a dirmi se si sente qualcosa mi confermi? si sente benissimo perfetto allora possiamo continuare questa è una piccola sessione orchestrale rivolge ok ci fermiamo qui per il momento come notate effettivamente questa è la classica orchestra sinfonica molto cinematica per non usare sempre il termine hollywoodiano che per l'appunto potrebbe potrebbe fuorviare insomma allora in questo caso l'orchestra è completamente digitale però suona come un'orchestra vera e questa è una cosa importante altra cosa importante che non manco mai effettivamente dire ai miei lievi è che non basta avere i suoni belli per fare l'orchestra bella perché più che altro i suoni belli rimangono comunque sintetizzatori e quindi per riuscire a rendere proprio il dinamismo di un'orchestra vera bisogna effettivamente sapere come funziona l'orchestra e come questa è implementata in questo caso tutta la sezione è concentrata in una sorta di orchestra tutti vuol dire che tutte le quattro sezioni principali ovvero archi ottoni legni e percussioni stanno suonando all'unisono a un certo punto vedremo anche vedremo anche unirsi all'appello dei cori sia maschili che femminili dei cori dei cori appunto sinfonici eccoli qua facciamoli sentire da soli maschi femmine molto molto contralto come come estensione e quindi dando maggiore eficità e aggiungendo appunto un arrangiamento aggiungendo più corpo alla parte partendo dagli archi la cosa appunto importante è la comunicazione cioè riuscire anche a dare a dare uno scopo alle varie sezioni in questo caso gli archi svolgono una funzione prettamente melodica vuol dire che sono i responsabili del tema che stiamo andando ad ascoltare quindi la parte che noi che a noi risulterà più familiare all'orecchio quella che sarà più di spicco per l'appunto sarà appunto quella degli archi li ascoltiamo isolati con tutto quindi effettivamente in questo caso abbiamo primi secondi violini e accompagnati anche nell'ottava inferiore dalla viola dalle viole abbiamo effettivamente il nostro tema ok invece abbiamo violoncelli e contrabbassi che altro non faranno che tenerci la fondamentale insomma la nota principale di tutta l'armonia così da occuparsi anche delle frequenze più basse di occuparsi appunto della parte più grossa che farà che farà corpo ma del corpo vero e proprio in questo caso si occupano gli ottoni che qui che qui per l'appunto all'unisono stanno suonando tre corni francesi tre sezioni di corni micro sezioni di corni francesi due sezioni di tromboni e ovviamente il nostro basso tuba anche qui la funzione del degli ottoni è semplicemente quella di dar corpo quella di quella di riempire effettivamente e di rendere proprio il suono massiccio infatti gli ottoni spesso e volentieri agli ottoni spesso e volentieri viene proprio associata questa funzione in questi casi il fatto di generare la massività proprio sonora la massa sonora e infatti se io li faccio partire da soli generano proprio la componente etica soprattutto i corni francesi che come vedremo poco più avanti vengono spesso associati come lo strumento melodico per eccellenza quando si tratta di creare delle parti epiche infatti se noi pensiamo ad alcuni temi come per esempio quello di Avengers il corno francese è protagonista ok se pensiamo ad esempio al tema di Uncharted ecco stessa cosa alla seconda versione però perché nella prima è la tromba che fa da padrone nella seconda versione invece è stata sostituita da un più epico corno francese e quindi diciamo che la comunicazione tra queste due parti è semplicemente linea melodica riferita agli archi linea armonica riferita appunto agli ottoni linea armonica degli ottoni che poi viene rinforzata ok dal colore dei cori infatti se noi sentiamo ottoni e cori assieme faccio partire un po' prima così si sente proprio l'aggiunta ora si aggiungono i cori sentiamo proprio che c'è un aumento di dinamica considerevole che poi come vedremo viene accentuato ulteriormente dalle percussioni anche i legni qui si occupano di una componente sia armonica che arrangiamentistica cosa vuol dire che svolgono più o meno in questo caso la stessa funzione degli ottoni solo che i legni hanno molti colori diversi perché un flauto un ovo e un clarinetto e appunto un fagotto tra di loro hanno dei timbri molto eterogenei e quindi riescono effettivamente a distinguersi abbastanza quindi qui c'è un gioco di voicing molto particolare voicing inteso come la composizione in forma complessa di un accordo musicale quindi in questo caso dato che una sezione funziona in modo che devo assegnare ad ogni strumento la nota precisa dell'accordo che dovrà fare che poi potrà un po' muoversi creare delle situazioni di passaggio molto interessanti e trasformarsi in un vero e proprio arrangiamento insomma lasciando perdere appunto i tecnicismi possiamo dire che io ad ognuno di questi quattro elementi quindi flauti oboe clarinetti e fagotti ho voluto assegnare una nota particolare dell'accordo a seconda di quale strumento volevo che si sentisse di più naturalmente lo strumento che farà le note più in alto più acute sarà quello che subito calzerà di più all'orecchio ascoltando quindi i legni da soli in questo caso ho voluto segnare appunto all'oboe l'onore e l'onere della nota più importante della nota diciamo soprano tra virgolette di questo di questo voicing proprio perché dato che questa qui intanto è una parte abbastanza tenue come dinamica quindi l'oboe può permettersi anche di di agire nelle parti più acute ecco per la cronaca quando si compone chiaramente per un'orchestra sinfonica che si vuole rendere il più realistica possibile ricordiamo è ovvio che bisogna pensare agli strumenti in sé cosa che impareremo a fare durante il corso scuola comics ci saranno parecchie lezioni dedicate proprio alla fase di ricerca per strumento proprio per riuscire ad affinare la tecnica riguardo alla composizione dello strumento stesso da questo che è un comune oboe agli strumenti più strani più etnici fornendo appunto del materiale per riuscire a documentarsi in prima persona su tutti gli strumenti che vogliamo effettivamente per i quali vogliamo imparare a scrivere ecco dopo è ovvio che più allenamento c'è e più effettivamente la scrittura la composizione diventerà buona però non c'è in ogni caso da preoccuparsi nel senso che comunque gli strumenti virtuali ci danno molte molte possibilità in ogni caso allora quindi parlando dell'oboe tenendolo tenendolo appunto nella voce più acuta e andando quindi nei registri più acuti diciamo che non sarà un suono potente come nei registri un po' più gravi per il quale è più tarato diciamo più programmato tra virgolette perché per l'appunto l'aria passerà in modo diverso quindi se io sforzo troppo se un oboista sforza troppo nelle note più acute rischia di scattare l'armonico il fischio fastidioso che si faceva di solito col flauto delle medie ecco quindi però per le parti più flebili effettivamente per le dinamiche più basse partire negli acuti del l'oboe potrebbe essere un ottimo deterrente anche perché l'oboe diciamo in mezzo a questa sezione è il suono che riesce a distinguersi un pochino di più infatti se l'ascoltiamo insieme l'obo è alto se si sente più di tutto provo a toglierlo se provo a toglierlo se ne sente proprio la mancanza e quindi questo diciamo che la sezione di legni in questo caso riesce a dare quel colore un po' più fiabesco diciamo al resto archi e ottoni si occupano quindi di una parte diciamo a livello sensazionale un po' più epica invece i legni qui svolgono proprio la funzione di trasformare il tutto in più fantasy ecco meno cinematico fine a se stesse un po' più fantasy dopodiché abbiamo le percussioni ecco per le percussioni io in questo caso ho fatto un piccolo mix di timpani normalissimi timpani che non fanno altro che dare l'accento a tutte le battute a tutti sì a tutte le battute effettivamente della della parte infatti se proviamo a sentirli da soli effettivamente quello che fanno palese e qui e qui c'è il crescendo appunto che ci dà ancora cioè ci fa capire che ci stiamo muovendo verso una dinamica più alta verso una parte più importante e infatti guarda caso è la parte dove si aggiungono i cori dove si aggiungono i primi violini che prima non c'erano effettivamente si aggiunge tutto il corpo degli archi si aggiunge in questo punto e quindi è una parte che chiaramente dove avendo più arrangiamenti avendo più strumenti che sono assieme per forza di cose la dinamica aumenta e ad accentuare ulteriormente questa dinamica ci sono anche questi tre elementi dove abbiamo appunto un semplice crash tenuto sospeso quindi un piatto che viene semplicemente fatto rullare con le bacchette e poi viene lasciato vibrare fino a quindi prolungare il suono fino a non scema da solo quindi e quindi chiaramente il piatto continuerà la sua corsa accentuando quindi il passaggio ammorbidendo il passaggio da una sezione all'altra la stessa cosa la fanno questi tamburi che ora vi spiego benissimo cosa sono anche qui abbiamo una rullata di percussioni grosse tra le quali contiamo gran casse rullanti ma anche gran casse taiko ok i taiko di cui effettivamente dopo vi farò insomma ascoltare dell'altro i taiko sono tipici tamburi di fattura giapponese che per l'appunto in tutti i trailer che sentiamo per tv quei boom che di solito vengono fuori sono appunto creati anche grazie a queste gran casse taiko che alcune possono toccare anche i 60 piedi infatti non vengono percosse con bacchette come normali pezzi di batteria ma proprio con mazzette ci sono mazzette di legno grosse che vengono utilizzate allo scopo sono tamburi di fattanza giapponese di fattura giapponese non fattanza ma fattura e per l'appunto vengono sono praticamente una comunicazione diretta tra la cultura musicale orientale e quella occidentale quindi la Hollywood che incontra un po' la Tokyo ecco della situazione in qualche modo e qui abbiamo anche un esempio di percussione digitale che altro non è che una gran cassa ok modificata digitalmente e quindi trasformata in qualcosa che normalmente in natura non esiste diventa un sintetizzatore quindi viene campionata viene ritoccata e viene creato un suono prettamente cinematico viene utilizzato anche questo infatti la magia del digitale è anche questa il fatto di poter prendere un suono e trasformarlo in qualcosa di completamente diverso vi farò vedere un esempio in una delle prossime appunto composizioni che analizzeremo tuttavia un'altra scena effettivamente un'altra parte di questa composizione ci porta in un mood leggermente diverso un po' più combattivo eccetera eccetera allora qui la cosa cambia le carte in tavola cambiano completamente nel senso che qui effettivamente il tema principale come sentiamo non è più assegnato agli archi che invece si occupano di un'altra cosa molto molto importante che è il movimento il ritmo infatti gli archi spesso e volentieri proprio per il fatto dell'attacco delle arcate vengono utilizzati tantissimo infatti Hans Zimmer Dochet in questo modo a generare movimento infatti in ogni brano perché questo sia completo sia imperiale sia grosso diciamo massiccio deve sempre avere almeno un componente che si occupa del movimento quindi delle parti che generano groove che generano ritmico quindi effettivamente qui questi archi muovendosi all'unisono generano una situazione di ritmo molto molto elaborata insomma un ritmo serrato incalzante che continua effettivamente tramite la loro comunicazione a darci proprio l'idea di di movimento perpetuo dall'altra parte invece deve esserci un qualcosa che dà staticità un qualcosa che effettivamente riesca ad incollare il tutto assieme quindi da una parte c'è il movimento dall'altra parte c'è un tappeto una sorta di atmosfera una specie di corpo più fisso più statico dato in questo caso proprio dai tromboni che si occuperanno in questa parte di tenere un di tenere appunto un tappeto infatti qui il tema ripassa agli archi aiutati tra l'altro dai legni che anche qui svolgono la funzione che svolgevano prima di conseguenza abbiamo movimento dato sempre dagli archi diciamo che i primi violini fanno il tema in questo caso ma gli altri archi continuano a svolgere la funzione di movimento togliamo i primi violini quindi qui anche la stessa sezione è divisa in due scopi quindi primi violini che si occupano appunto di muovere in un qualche modo cioè di generare il tema scusate e gli altri archi invece che si occupano di movimento il tutto condito dalla staticità data da tromboni e legni parlando invece dei corni francesi nella parte prima i corni francesi creano il tema dopo però il tema ripassa i primi violini e i corni francesi comunque mantengono in ogni caso una componente di arrangiamento una componente di botta risposta infatti se noi proviamo a sentire il connubio tra una parte e l'altra corni francesi quindi epici grossi e ora violini corni che rispondono quindi in questa sezione abbiamo primi violini e poi abbiamo una risposta da parte dei corni li sentiamo isolati primi violini corni che rispondono con una sorta di controtema infatti diciamo che una cosa che si usa molto per comporre le linee melodiche i temi è proprio il botta e risposta da parte di diverse famiglie di strumenti un po' come se fosse un discorso come se noi stessimo parlando a un'altra persona ok e io sto dicendo stiamo parlando dello stesso identico discorso io dico una cosa a e l'altra persona dice una cosa b che è sempre inerente a quello di cui stiamo parlando ma offre degli spunti in più dei punti di vista personali quindi riepiloga un pochino quello che ho detto io ma rendendolo proprio in un qualche modo quindi c'è una sorta di botta e risposta tra gli strumenti infatti in questo caso abbiamo questa parte qui che ci sono i corni francesi che introducono il discorso e i primi violini che dicono lo portano avanti i corni francesi che aggiungono effettivamente un qualcosa in più al discorso che stanno già facendo e il tutto sfocia più avanti insomma una conclusione del discorso e alla ripresa di un altro discorso che sarà probabilmente un altro tema o un tema ripreso in precedenza quindi effettivamente in questo brano abbiamo già un pochino di regole base sulla composizione di un'orchestra tipica cinematica quindi abbiamo le parti che fanno movimento le parti che fanno staticità e che quindi incollano la componente epica data soprattutto da archi e ottoni la componente più fiabesca più fantasy diciamo di cui possono occuparsi benissimo i legni questo non significa che questo sia il loro unico scopo intendo dire sto parlando da un punto di vista generale dopo ovviamente ci sono moltissimi modi di utilizzare questi strumenti diciamo questo è un po' un template se vogliamo alla fine per rendere più massiccio e più movimentato il tutto per condire con il tocco cinematico per eccellenza abbiamo le percussioni che in questo caso più grosse sono meglio è in un qualche modo in questo caso comunque per accentuare ancora di più il movimento dato appunto dagli archi abbiamo anche i tom che faccio ascoltare separatamente che danno proprio una componente tribale al tutto quasi no? e quindi effettivamente questi tom che vanno ragionati un pochino come se fossero più persone a suonarle infatti a volte si sentirà proprio il flam il flam praticamente è una classica tecnica percussionistica dove colpendo il tamburo con due bacchette non cadranno mai perfettamente a tempo ma si sentirà sempre un tra quindi una mano per forza di cose cadrà sempre leggermente in anticipo rispetto all'altra ecco e quindi questo darà l'apparvenza che sia che sia una cosa molto più viscerale molto più tribale e che siano più persone a suonarle infatti infatti questi tom sono stati ragionati proprio come se fossero più percussionisti a suonarle all'unisono quindi non saranno mai clinici e perfetti chirurgici nel cadere giusti quei colpi ma saranno leggermente sfasati quindi a creare una cosa molto più appunto tribale e più interessante al tutto sono accompagnate le percussioni grosse appunto i taiko drums che in questo caso non sono solo taiko drums c'è una gran cassa c'è un tamburo taiko c'è una sorta di incudine quindi una percussione di ferro effettivamente che genera questo suono metallico ecco che viene usato praticamente sempre nei trailer infatti è anche nei videogiochi insomma addirittura in giochi come Bloodborne per chi lo conoscesse il colpo critico contiene proprio questo tipo di suono qui per dare proprio l'idea dato che il colpo critico non è facilissimo da da svolgere nel gioco dare un suono imponente ci dà proprio l'idea che cavolo ce l'abbiamo fatta abbiamo fatto un colpo critico e quindi il suono è più o meno questo al tutto si aggiungono le classiche rullate di taiko di rullanti e di gran casse proprio a riempire ulteriormente che effettivamente hanno anche questo riverbero questa che adesso spiegherò in cosa consiste il riverbero e come pensarlo che prolungherà ulteriormente il suono e quindi darà una coda molto più lunga e renderà il suono molto più etico come se fosse effettivamente suonato in un ampio spazio aperto ci dà proprio l'idea di apertura in un qualche modo e naturalmente il saper comporre per un'orchestra cinematica non è sempre sufficiente infatti e questo gli strumenti virtuali più importanti ci danno questa possibilità noi dovremmo anche pensare a come è stata registrata questa orchestra virtuale in un qualche modo dove sono collocati gli strumenti e addirittura quali microfonazioni sono state usate vi faccio un piccolo esempio guardando i violoncelli ecco allora la sezione orchestrale in questo caso conta cinque microfoni switchabili uno due tre quattro e la versione vintage diciamo di questo in pratica possiamo analizzare che ci sono proprio delle posizioni specifiche non solo per l'orchestra in sé vedete che l'orchestra è proprio impostata secondo un ordine preciso che ha un senso che ha perfettamente un senso e a lezione lo capiremo però abbiamo anche questi microfoni qui queste microfonazioni diverse segnate con questi pallini qui semplicemente questi sono i microfoni con i quali è stata registrata l'orchestra sono stati registrati i propri campioni dell'orchestra in un qualche modo ogni microfono chiaramente ogni microfonazione ogni gruppo di microfoni ha le sue caratteristiche io qui per esempio ho tenuto abilitato soltanto il main il microfono la microfonazione principale che è quella che mi recupera un pochino tutto l'ensamble non ho avuto bisogno d'altro in questa composizione però in altre avrei preferito magari utilizzare un sistema diverso in questo caso la configurazione viene utilizzata con un sistema chiamato Deca Tree di cui parleremo poi per esempio ci sono i microfoni close che sono quelli come suggerisce il nome posti vicino al singolo gruppo di strumenti quindi per esempio se io voglio captare proprio le caratteristiche dell'arcata dei primi violini per esempio attiverò il close nei primi violini ottenendo quindi ottenendo quindi insomma un suono più ravvicinato che mi darà appunto un carattere diverso ecco e poi abbiamo altri microfoni insomma abbiamo il mid collocato effettivamente sono dei microfoni PZM spiegheremo cosa sono collocati vicino al direttore effettivamente e sì e l'orchestra praticamente va pensata come se noi fossimo nel contempo il compositore che chiaramente siamo ma anche il direttore che sta dirigendo l'orchestra e allo stesso momento il musicista che sta suonando spiegato così sembra difficile in realtà non è così complicato in pratica noi a livello sonoro siamo posizionati qui al centro e noi stiamo ascoltando l'orchestra attorno a noi ed effettivamente questi microfoni ce ne danno la conferma sono posizionati letteralmente dietro di noi e quindi offriranno praticamente un po' il corpo intero di questo anfiteatro questa è una cosa e poi c'è anche da pensare chiaramente noi in natura siamo abituati a sentire un suono certo ma un suono mischiato al riverbero del suono il riverbero detto proprio spartanamente sono tutte le riflettenze sonore che che avvengono all'interno di una stanza per esempio se noi parliamo dentro una cattedrale sentiremo il nostro suono più diffuso perché effettivamente perché effettivamente l'ambiente il rimbalzo del suono sulle pareti e sugli vari ostacoli appunto fa in modo che che noi sentiremo di più effettivamente sentiremo un corpo diverso sentiremo un eco particolare proprio perché sentiamo tutte le riflessioni sonore all'interno della stanza quindi noi dobbiamo pensare anche a dove deve suonare questa orchestra in questo caso io ho fatto suonare l'orchestra all'interno di di una hall diciamo adibita a scopo cinematico quindi praticamente come se io stessi registrando la mia orchestra facendo suonare la mia orchestra dentro una stanza dentro dentro uno stanzone grande una sorta di auditorium diciamo con un'acustica particolare che mi piace quindi vedremo anche nel corso come creare come generare la nostra stanza virtuale oltre che la nostra microfonazione virtuale in realtà spiegati così sembrano dei concetti abbastanza difficili non sono così complicati anzi scoprirete che sono cose molto semplici basta insomma farci l'abitudine apro un altro progetto naturalmente ci sarà tutto un caricamento specifico dopo tra l'altro vedremo anche questo che è semplicemente l'implementazione di tutto quello che abbiamo visto all'interno del gioco per il quale seguiranno appunto degli esempi specifici come vedete effettivamente c'è da caricare un pochino di cose appunto perché questo brano è stato anche mixato quindi diciamo che tutti i plug-in utilizzati nel progetto hanno un loro peso e tutti servono a qualcosa infatti la parte ci sarà la parte di sound design la parte di sound engineering spiegata dal buon Francesco Scarpa che se ci sta seguendo lo salutiamo tantissimo e che si occuperà appunto di spiegarvi tutta la parte dedicata al trattamento del suono che è una parte anch'essa molto importante e fondamentale eccoci qui allora questa è una composizione completamente diversa in questo caso ho voluto creare un qualcosa di un po' più di un po' più inusuale in un qualche modo quindi stiamo parlando di una cosa un pochino più elettronica che comunque ha anche un piccolo accenno sinfonico infatti qui vediamo che c'è una parte di archi e una parte di ottoni che daranno effettivamente un certo tipo di colore al tutto insomma questa composizione è un pochino più noir misteriosa e un po' più industrial qui le cose importanti sono il pianoforte che la fa da padrone per le prime parti di composizione e alcuni sequencer alcuni synth alcuni sintetizzatori che generano proprio delle frasi sonore e che ho e che in questo caso ho programmato completamente da zero altra parte del cor del corso appunto altra parentesi del corso è proprio il fatto che noi impareremo la dimestichezza con i synth effettivamente quindi impareremo a saper leggere un sintetizzatore noi vedremo come è fatto il sintetizzatore vedremo effettivamente per ogni synth quali sono i comandi base come poter sfruttare tutti i synth che vogliamo al 100% sia fisici quindi analogici sia digitali in software insomma capiremo che sono tutti progettati in base a dei moduli precisi a dei parametri particolari e vedremo ascoltiamo intanto l'inizio di questo brano vedete effettivamente c'è già una texture atmosferica ok ora il pianoforte si ferma per un attimo c'è un tema introdotto da una celesta e ora aumenta la dinamica sfucciando appunto in qualcos'altro di più complesso anche questo brano c'è su Spotify tra l'altro fan fact allora qui la cosa veramente importante è il pianoforte che tra l'altro verrà anche accentuato ulteriormente è reso molto più dinamico nella seconda strofa dove l'immagine diventerà molto più complessa infatti qui per esempio il pianoforte ha questa cosa qui abbiamo la parte melodica quella della mano destra e la mano sinistra che non è così distante in questo caso le due mani stanno suonando molto molto vicine tra di loro quindi stiamo tenendo sempre su una parte medio alta il pianoforte qui la cosa viene molto resa molto più virtuosa fate suonare sta roba non vi dico l'agonia in questo caso la diciamo che ho utilizzato un pochino la tecnica Bohemian Rhapsody la chiamo ovvero il fatto del passare di scavalcare la mano da una parte all'altra scavalcare la mano sinistra scavalca la destra e va a collocarsi più sopra in questo caso mutando la parte centrale in pratica questa è solo la mano sinistra che non fa altro che scavalcare tornando però indietro abbiamo anche la mano destra che intanto continua a fare le sue scale i suoi arpeggi la sua figura di sedicesimi ecco questa effettivamente è una parte ragionata ovviamente pianisticamente io nasco come pianista quindi a me viene abbastanza facile pensare a queste cose tuttavia per chi non è effettivamente né pianista né comunque strumentista il corso offre anche delle basi molto solide per riuscire a per riuscire a capire come comporre e anche dei composing tricks molto utilizzati che possono salvarci la pellaccia in tantissime occasioni in questo caso tra l'altro il pianoforte l'ho pensato molto scuro molto cupo quindi in questo caso il pianoforte rigorosamente a coda avendo quindi una cassa armonica che genera un suono particolare più colore effettivamente inoltre ci ho aggiunto un riverbero digitale molto molto prolungato infatti se io provo ad ascoltare il suono senza il riverbero è secco rimferisco il riverbero quindi capite come il riverbero effettivamente genera una grossa parte cioè è responsabile è grande responsabile appunto di della spazialità effettivamente della profondità del suono passiamo invece a vedere i sintomi invece allora questo è un sequencer che ho creato io personalmente proprio partendo da zero e che è formato da tre elementi che stanno lavorando all'unisono da una parte abbiamo letteralmente un rumore quello che state sentendo è un generatore di rumore di rumore infatti spesso e volentieri scopriremo come da i rumori il generatore di rumore proprio il componente noise generator di un synth partendo da un rumore bianco un rumore rosa insomma il classico rumore da statico televisivo del tubo catodico appunto come da questo è possibile generare effetti anche come vento pioggia effetti atmosferici di vario tipo effetti cinematici molto utilizzati semplicemente partendo da un rumore e aggiungendone moduli parametri e rimodellandolo come vogliamo quindi da un rumore possiamo ottenere veramente tante cose poi in questo caso abbiamo due si chiamano oscillatori sono il punto di partenza del sintetizzatore quelli che generano il suono in pratica e dopo tutti gli altri componenti servono per modellare appunto il suono in questo caso abbiamo un componente fisso questo qui fa semplicemente una sequenza intermittenza perché è l'altro oscillatore che invece genera note e assieme appunto sono stati messi in sequenza in modo che due parametri diversi di questi sint vengano modificati e vengano messi in sequenza in pratica quindi io non suonerò più una nota lunga ma suonerò proprio premendo un tasto avrò proprio una sequenza di note concisa che io ho deciso prima programmandolo appunto oltretutto gli oscillatori sono suoni che ho generato io personalmente e poi abbiamo una cosa simile ma diversa che è l'arpeggiatore che invece allora mentre il sequencer effettivamente genera una frase l'arpeggiatore invece genera sempre cioè è la stessa nota solo che ribattuta oppure la stessa sequenza di note io faccio un accordo che ne so do mi sol e l'arpeggiatore mi farà do mi sol do mi sol do mi sol in questo caso la nota era sola una perché dovevo fare la parte di basso e ecco questo tra l'altro è un tipico tipico arpeggiatore basso che viene spessissimo utilizzato nel nel mondo cinematico e anche questo parte da me è un suono che con un altro sintetizzatore vedete questo qui è diverso ha altri tipi di parametri però noi riusciamo a vedere esattamente dove si trova il modulo degli oscillatori e capiamo subito che questo che questo sintetizzatore ci fornisce due oscillatori quindi la possibilità di unire due suoni insieme e quindi rielaborati tramite parametri specifici ho creato la la sequenza che stiamo che abbiamo ascoltato dando un un rapido occhio anche a questi ecco queste due tracce sono le classiche tracce che io chiamo sento o non sento perché effettivamente hanno hanno questa caratteristica che lì per lì non ci badiamo quando ascoltiamo nell'insieme ma se le togliamo sentiamo che manca qualcosa per esempio ascoltando quindi la sezione precedente questa qui io adesso proverò a mutare queste due tracce e noterete un mare di differenza ora ora le sentite ora le muto è sparito a grande parte del corpo le li metto queste tracce si occupano appunto delle frequenze più alte un brano per essere completo deve avere dei suoni che lavorano nei bassi deve avere dei suoni che lavorano nei medi e suoni che lavorano negli alti queste qui sono le uniche effettivamente che lavorano negli alti quindi eliminate queste crolla gran parte dell'atmosfera perché perché manca manca una banda di frequenze da occupare manca qualcosa e quindi ogni componente è importante in questo caso questi sono semplicemente dei charleston degli hi-hat quindi piatti che si aprono e si chiudono della batteria modificati glitchati e resi un po' più strani per esempio questo qui normalmente dovrebbe suonare così ma io l'ho fatto suonare così quindi un po' glitchato creando quindi una sorta di sequenza di glitch particolari che mi hanno permesso di renderlo in questo modo questo invece è una semplice sequenza di charleston e assieme formano si incastrano assieme creando questi micro ritmi particolari e dando quindi occupando quei buchi nel groove nel ritmo che sono fondamentali per riuscire a portarci avanti a creare qualcosa di movimentato e quindi qui abbiamo qualcosa di diverso poi se andiamo a sentire anche l'aggiunta della parte effettivamente orchestrale otteniamo questo quindi anche qui abbiamo in questo caso gli archi che stanno svolgendo la funzione di componente melodica quindi il tema passa agli archi anche in questo caso tra l'altro qui abbiamo addirittura tre tre sezioni diverse che effettivamente fanno fanno la stessa cosa solo che ottave diverse per rinforzare ulteriormente è la stessa identica cosa la stessa identica parte solo che fatta in tre ottave diverse quindi i violini la faranno più in alto i violoncelli la faranno più in basso e le viole si piazzeranno in mezzo tra i due in tutto questo abbiamo ovviamente da componente un pochino più da corpo un pochino più epica data dagli ottoni che si occupano semplicemente di fare un giro di accordi comunicando tra loro ognuno di loro farà una nota e assieme comporranno l'accordo in sé faccio sentire velocemente l'ultimo esempio prima di passare invece alla componente prettamente diciamo videoludica questo ci metterà un attimino in più per caricare perché è veramente grosso è un altro un altro brano per l'appunto l'ultimo che vedremo dedicato cioè preso scusate estratto da da questo lavoro da questo catalogo che ho messo appunto su Spotify e così ne approfitto per farmi un po' di pubblicità ma a parte questo è un brano che invece ha una tinta completamente diversa naturalmente dagli altri due questa volta si tratta di una sorta di pseudo horror gotico sinfonico ecco una cosa un po' strana che però può essere allocato benissimo a un gioco un po' stile Lovecraft se vogliamo con un po' di azione in mezzo quindi una sorta di action RPG horror Lovecraft style insomma se vogliamo proprio essere chiari e puntigliosi di questo mi interessava vedere i droni i droni sono dei particolari tipi di sintetizzatori che si occupano di creare un'atmosfera creepy e soprattutto orientata più sui bassi quindi sono dei suoni tenebrosi ok creati digitalmente o tramite sint analogici che per l'appunto ci danno l'idea di qualcosa di di cupo di misterioso di chilling se vogliamo qui come al solito ci sono sempre problemi in un qualche modo però dovremmo riuscire ad aprire il nostro progetto senza problemi in questo momento non mi trovo in studio come vedete di solito queste cose le faccio nel mio studietto ehi Alex allora approfitto mentre un po' come dire le cose si stanno mettendo pian piano in moto anche per cui non so dalle tue parti ma qui c'è un bel cielo nuvoloso che di sicuro non ci aiuta diciamo una cosa una cosa molto importante intanto ringrazio le persone che ci stanno salutando ed è che il biennio di music production di scuola comics da quest'anno anche ha come dire una collaborazione importante fondamentale con Steinberg quindi chi si diploma al corso di scuola internazionale di comics ha il diploma anche di Steinberg e gli allievi hanno i software gratuiti che diventa come dire qualcosa di decisamente molto importante anche perché Steinberg come dire supervisiona il nostro il vostro lavoro tuo e di Francesco che vedo anche che è collegato infatti ti saluta in chat e quindi è una collaborazione molto importante perché la serie di Padova di scuola internazionale di comics diventa un centro autorizzato Steinberg una cosa decisamente importante grazie alla collaborazione di Franco Fra Castoro non so com'è al momento come dire il caricamento di tutto di tutto il macchinario qui devi dirmi tu Alex allora sì in realtà a scuola chiaramente utilizzeremo e avremo a disposizione i sistemi i sistemi più aggiornati di Cubase per l'appunto e e avremo tra le altre cose anche la collaborazione abbiamo la partnership oltre che con Steinberg anche con Acustica Audio quindi avremo il loro intero pacchetto di plug-in a disposizione oltretutto siamo forniti anche di di come pacchetto di strumenti possiamo puntare su tutti i computer sull'appoggio di native instruments per l'appunto quindi avremo tutto il complete ultimate installato su ogni computer e quindi praticamente avremo la possibilità di vedere ogni cosa nel minimo dettaglio penso sia tutto a livello di 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 fornimento effettivamente di rifornimento di collaborazione Alex se tu sei pronto io mi mi tolgo dallo streaming devo dirti che da come dire da assoluto neofita della questione e poco valente strumentista però devo dire che mi sto divertendo moltissimo perché qui ci sarebbe da dire per noi fumettari in particolare che anche i piccoli trailer che si fanno animati con musiche di questo livello diventano e potrebbero diventare delle cose molto interessanti per lo meno la parte promozionale ma non tolgo altro tempo con le mie sciocchezze e direi che ti ridò la palla come si dice a presto grazie mille a parte che non credo proprio che siano sciocchezze anzi il fatto del mondo dei trailer è una cosa che c'è c'è sempre c'è sempre del lavoro effettivamente saper fare queste cose e metterle appunto e al servizio appunto del mondo dei trader che sia appunto per fumetti che sia per corti che sia per qualsivoglia è sempre mega mega utile ed effettivamente sono dei lavori che bene o male si trovano sempre in un qualche modo comunque bando agli indugi qui la cosa interessante sono i droni ma anche l'utilizzo della foley art come percussione in pratica nella nella foley art spicca la figura del rumorista ok tipo nei film tempo fa praticamente per riuscire a creare una il suono di un tuono temporale veniva proprio agitata una lastra effettivamente oppure nei videogiochi per creare che ne so il suono per esempio di una spada che viene spoderata si usa prendere due coltelli e strisciarli l'uno contro l'altro quello è il foley in questo caso io ho utilizzato letteralmente dei meccanismi di orologio per creare delle percussioni cosa che sarà molto evidente nella seconda parte faccio sentire velocemente così passiamo al resto allora c'è un camion quindi capiamo da subito qual è l'atmosfera in cui vuole andare a parare il brano tra l'altro attenzione al tema che ora ci servirà e avanti così ora si aggiungono altri meccanismi di orologio accompagnati da dei contrabbassi impizzicato ora quelli che state sentendo in alto sono sempre meccanismi di orologio ma ritoccati per farli diventare letteralmente suono e ora faccio notare cosa fa il violoncello il violoncello che qui ho proprio utilizzato un violoncello solo proprio perché volevo enfatizzare il fatto che fosse un violoncello in solitaria fare il tema e quindi non più un ensemble è una scelta molto diversa e quando si ha a che fare con uno strumento da solo bisogna stare attenti anche al tipo di tecniche che sta utilizzando oltre oltre ovviamente alla solita microfonazione vedete questo qui ci fornisce tre tipi di microfonazione diverse tra cui abbiamo il close che è un microfono piazzato ravvicinato insomma che è quello importante poi abbiamo i mid che sono dei microfoni presi diciamo ai lati e poi il far che riprende è un microfono posto più distante che riprende le caratteristiche della stanza in cui è stato registrato questo qui tra l'altro è stato registrato in un auditorio ma cremona ok presso il museo del violino infatti questo qui è proprio l'emulazione di uno stradivari che è di per sé esposto in quel museo pensate voi naturalmente il il vst il strumento ci permette anche di utilizzare di decidere in quale posizione del manico far far suonare le nostre note questo è molto importante perché a seconda delle corde che utilizziamo il suono sarà leggermente diverso chiaramente se punto sulle corde più alte il suono sarà un po' più flebile un po' più più fino e smart significa che effettivamente è una sorta di modalità automatica per la quale cerchiamo di tenerci sul range molto molto simile molto molto omogeneo low string chiaramente è più concentrati sulla corda più grave e quindi il suono sarà più grosso perché la corda di per sé è più grossa in questo caso l'ho tenuto su smart perché mi piaceva l'idea di muovermi di più attraverso le corde il tutto condito chiaramente da una bella sessione di staccato che è praticamente la componente ritmica principale con il proprio riverbero la propria stanza e quindi tra l'altro il violoncello riprende perfettamente il tema del del carillon quindi è la ripresa proprio del tema se prima il carillon suonava questo quindi come preludio diciamo a quello che verrà dopo qui abbiamo il nostro violoncello che effettivamente che appunto continua a fare la sua parte dopodiché passiamo invece a vedere i droni perché questo brano è lungo e il tempo è poco per esempio qui abbiamo una piccola mistura di droni vedete questa atmosfera molto chill accompagnata da questo basso intermittente che io ho creato tramite un'emulazione del Prophet 5 che è appunto la simulazione di un sintetizzatore analogico molto vintage che viene ancora oggi utilizzato in tante situazioni questo suono anche questo l'ho creato da zero avendo il suono in testa e modificando i parametri per riuscire a ottenerlo sarà abbastanza pane quotidiano per chi per chi frequenta il corso un altro drone tipico questa volta utilizzato in un altro modo è questo qui devo trovarlo eccolo qua questo qua che per l'appunto tramite automazioni ovvero modifica dinamica dei parametri viene ne viene modificato il meccanismo questo qui è uno strumento che tra l'altro abbiamo possediamo anche nell'aula e che ci permette di creare proprio dei droni in tempo zero per esempio questo parte da un suono di synth diciamo questo è un sintetizzatore un drone sintetizzato per poi diventare gradualmente tra poco vedremo un 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 drone utilizzando strumenti orchestrali utilizzando cluster quindi suoni dismessi che formano accordi striduli cose particolari sentite che effettivamente la cosa si fa sempre più pesante fino a spociare effettivamente in un drop allora per quanto riguarda quindi la parte compositiva che in verità farò degli accenni anche tra poco adesso vorrei dedicarmi invece all'implementazione all'interno di un gioco cioè come devo pensare una colonna sonora per videogioco allora farò tre esempi tra i più comuni in assoluto il primo che farò riguarderà per l'appunto il il sistema open world quindi praticamente come dicevo all'inizio all'inizio di questo workshop il fatto di essere in un essere in una fase di esplorazione noi stiamo esplorando a un certo punto compaiono dei nemici fase stealth dobbiamo nasconderci dobbiamo rimanere nascosti cercare di evitarli non ce la facciamo evitarli i nemici purtroppo ci scoprono e parte la componente battaglia parte la sequenza di battaglia saremo costretti a combattere e quindi tutti questi temi devono essere collegati tra di loro in modo adattivo infatti il concetto di musica adattiva sta proprio alla base della composizione per videogiochi perché noi siamo sempre abituati al fatto di un brano che inizia e poi finisce e in alcuni videogiochi è effettivamente così ma in giochi di questo genere tipici appunto del mondo della categoria tripla A diciamo abbiamo sempre questa musica che invece muta continua a mutare e adesso vediamo come funziona in questo caso io ho creato quattro quattro sequenze di esplorazione diverse quattro blocchi vedete ho creato proprio quattro blocchi strumentali completamente separati tra di loro che saranno delle piccole sezioncine musicali che possono venirmi fuori randomicamente quindi non saranno in sequenza io non capirò mai quale viene fuori e che suoneranno tutte in maniera diversa con strumenti con strumenti diversi in modo da rendermi ancora più inaspettato il tutto quindi l'audio engine sarà programmato in modo che una di queste quattro sezioni venga fuori una alla volta ma sempre in ordine randomico in ordine perfettamente casuale per darvi più l'idea dell'ambientazione io ho importato anche questo che è un effetto sonoro di di onde del mare quindi praticamente ho fatto conto che il nostro ambiente sia o in un in un ambiente marino insomma quindi una spiaggia un villaggio marino o qualsivoglia questo però attenzione questo non fa parte della soundtrack questo qui fa parte degli effetti sonori quindi sarà una cosa implementata a parte perché anche questo suono verrà ripetuto in loop perenne per darci l'idea che comunque se abbiamo delle onde del mare in lontananza queste continuino a a fare insomma il suono che fanno faccio sentire brevemente le le quattro i quattro blocchi qui partiamo vedete che effettivamente ecco questi blocchi sono abbastanza tra virgolette timeless quindi non ho tenuto conto di un vero e proprio tempo scandito perfettamente ma ho cercato di fare delle piccole frasi e dismesse perché che non disturbino troppo la nostra componente esplorativa infatti in questo caso abbiamo un gruppo di violini che stanno continuando a fare la loro parte molto dismessa molto un po' di pausa riprendono molto leggeri come darci l'idea che l'ambiente in questo momento è placido non c'è pericolo al tutto viene aggiunto più avanti una mistura di clarinetto e oboe che danno un'ulteriore atmosfera eccetera eccetera e quindi questo è il blocco 1 nel blocco 2 invece ho preferito utilizzare un semplice oboe anche questo preso nei suoi registri più acuti quindi un suono molto flebile con una bella dose di riverbero come a farci capire che siamo in un ambiente aperto quindi dove il suono si diffonde eccetera eccetera qui abbiamo invece a lavorare un'intera sezione d'archi eccola qua vedete che ho proprio la possibilità di decidere singolarmente cosa fa ogni sezione e quindi un'altra atmosfera e al fine ne abbiamo l'ultima che invece è data da un violino solo una marimba che ci dà proprio il classico ambiente un pochino più caraidico diciamo se vogliamo ai quali dopo si aggiungono ancora i violini sempre flebile quindi capite è una cosa molto molto tranquilla almeno per ora perché quando il nemico sarà in zona noi avremo la nostra sequenza stealth effettivamente che ho fatto in un documento a parte eccola qui questa qui è importante fondamentale che sia timeless quindi che non segua un un metronomo preciso che non segua un tempo definito e scandito perché questa cosa perché il nemico può trovarci in qualsiasi momento può scoprirci in qualsiasi momento in qualsiasi istante quindi praticamente il brano in qualsiasi punto deve poter mutare ed arrivare alla fase di combattimento oppure tornare alla fase precedente ovvero quella di esplorazione infatti in questo caso il tutto è stato fatto completamente timeless e ho aggiunto vari elementi infatti mutiamo questo molto di tensione no? a tenere tutto in piedi sono degli armonici di violino ok praticamente l'arco avrà messo in un certo modo onde captare chiaramente non il suono completo ma solo gli armonici quindi il suono sarà molto più flebile questi sono letteralmente due violini che suonano a distanza di un semitono l'uno dall'altro e quindi otteniamo questo suono proprio e il tutto è unito a vari interventi qui abbiamo altri violini in tremolo qui abbiamo un violoncello solo qui abbiamo un po' di percursioncine e qui abbiamo altre percursioni ancora abbiamo uno shaker ricorda quasi il sonaglio di un serpente e quindi questo è il tema stealth in un qualche modo quindi una cosa completamente timeless che muta in quello che invece è un brano molto più incalzante che è quello di battaglia che io ho pensato in un modo molto preciso perché questo qui ha dei grattacapi effettivamente da risolvere ovvero il fatto che il brano ha un inizio e ha una fine però deve essere implementato in un ambiente dove il brano deve poter continuare all'infinito in pratica finché finché effettivamente finché effettivamente continua allora infatti io ho diviso le sezioni in questo modo lasciando perdere transition che dopo vedremo che cos'è c'è un intro di quattro battute ok collegato a questo che invece il battle film che invece sarà la parte che dovrà da qui a qui essere essere per l'appunto ripetuta in loop perché invece il marcatore l'ho fatto arrivare fino a qui perché per ricordarmi che nell'esportazione di questa io non voglio esportare solo questa parte perché tutto il riverbero dei suoni quindi possiamo notare che effettivamente se io faccio partire da qui il suono non sparisce subito ma continua a diffondersi quindi io tagliando la traccia da qua mi verrebbe tagliato tutto il riverbero di fondo e quindi mi creerebbe un effetto molto innaturale quando questa parte finisce e ritorna qui sentirai quasi un è brutto da sentire proprio smorzato quindi in pratica io tengo comunque la naturale diffusione del riverbero dei suoni in modo che si riagganci perfettamente e che sembra che effettivamente il tutto sta continuando ad andare avanti faccio sentire brevemente quello che ho composto la battaglia effettivamente inizia il vero tema che poi si evolve in questo modo e quindi gli archi genereranno ancora più movimento eccetera quindi qui vediamo che abbiamo anche qui archi che generano movimento e che fanno proprio un pattern fisso qui abbiamo gli ottoni che svolgono due scopi diversi in questo caso abbiamo tromboni e bassi tuba che ci faranno la componente grossa la componente epica e massiccia del suono e le trombe tra l'altro fanno una cosa particolare qui fanno dei piccoli arrangiamenti dei piccoli interventi in staccatissimo per riuscire a coprire quei buchi che rimangono un po' fuori infatti danno danno un colore in più insomma il tutto unito al componente più epica ovvero la parte melodica che è composta proprio col corno francese io qua voglio dare l'idea di battaglia voglio dare l'idea che ci stiamo menando male in un ambiente più o meno fantasy e quindi quale strumento migliore del corno francese molto solenne il tutto condito alla fine con le classiche percussioni cinematiche quindi qui abbiamo dei taiko a lavorare abbiamo tutte le varie grancasse e incudini tra virgolette del caso e poi ovviamente a dare il grosso del ritmo i nostri tom da concerto che daranno la componente tribale quindi da battaglia della situazione appunto come abbiamo visto i tom da concerto e anche i timpani in realtà sono molto adibiti a questo utilizzo poi ho staccato il finale da tutto il resto il finale semplicemente e qui la battaglia è finita e ritornerà la nostra sequenza di esplorazione no? qui tra l'altro ho utilizzato una percussione mega modificata proprio questa qui non esiste in natura proprio da trailer effettivamente proprio a dirci che basta conclusa qui è a posto insomma questa è la staccata dal resto perché perché la voglio implementare a parte voglio che sia una cosa completamente discostata ma che se io provo a spostarla più in qui effettivamente la cosa funziona è lo stesso quindi praticamente il metodo che ho utilizzato è stato che all'inizio l'ho composta assieme a questa poi l'ho tagliata e l'ho spostata questo è quanto per capire che dovevo esportarla diversamente insomma tutto questo intanto metto già a caricare il prossimo il prossimo esempio che è un'altra cosa e andiamo a vedere come questa cosa va a implementarsi all'interno del gioco infatti adesso io andrò sul mio audio engine appunto wise che è quello che noi impareremo a utilizzare durante anche il secondo anno del nostro corso allora in questo caso ho implementato all'interno del software come suono d'ambiente il suono delle onde del mare che l'ho abbassato notevolmente di volume per darmi l'idea che sia un po' più indietro ma io questo suono qui a seconda delle scelte del giocatore magari mettiamo caso che il giocatore si sta avvicinando a un bagnasciuga oppure si sta allontanando da un bagnasciuga io avrò la possibilità di per l'appunto decidere quanto distante sono oppure no vedete per esempio qui sono vicino magari provo ad alzarlo anche un pochino di volume così lo sentite meglio però io adesso mi allontano e lo sentirò sempre meno naturalmente essendo che il suono non si muove in modo lineare qui sarebbe il caso di utilizzare una curva un po' più così ecco il suono è logaritmico quindi mi allontano mi allontano mi allontano sono abbastanza distante dal bagnasciuga ma sono ancora abbastanza vicino da poterlo sentire mi riavvicino ok adesso sono proprio lì lì con l'acqua ce l'ho sotto i piedi no? e quindi a seconda delle scelte del giocatore avrò la possibilità di modificare questo parametro a seconda delle mie esigenze naturalmente adesso lo rimetto a volume basso perché la cosa che ci interessa è la musica allora le componenti esplorative vedete qui ho le varie tracce esplorazione 1 2 3 4 che io ho posizionato in una piccola playlist disposta randomicamente vedete random continuous evitando tra l'altro la ripetizione delle ultime due che sono state eseguite infatti se noi se noi proviamo a eseguire in loop queste qui finché non ne passano altre due io non sentirò la precedente perché potrebbe capitarmi che per scelta randomica mi viene fuori sempre la stessa e io non voglio questo io voglio che sia una cosa casuale e continua altrimenti viene a mancare proprio la componente l'effetto sorpresa tipico infatti facendo partire questo e velocizzando anche un po' per motivi di tempo possiamo anche utilizzare una velocità più elevata per vedere proprio come muta adesso faccio partire eccolo qui mi ha scelto la seconda che è l'oboe eccola qua mando un po' avanti un po' fastidioso ma adesso appena finisce non mi ricordo assolutamente quanto duri mandiamo avanti mandiamo avanti eccolo qua mi ha scelto l'uno e quindi ci sarà un'altra sequenza ancora che sarà quella che abbiamo ascoltato per prima dopodiché abbiamo lo stealth ok la componente stealth poi abbiamo la componente battaglia che io ho diviso in due parti distinte praticamente ho ritagliato l'intro eccolo qui per concludersi qui appunto e a questo punto parte la sequenza da mettere in loop infatti la cosa è stata organizzata in modo che l'intro lo sentirò una sola volta e poi sentirò questa componente qui che continuerà a looparsi continuerà ad andare avanti finché la battaglia perdura a tutto questo ho infine aggiunto il mio finale eccolo qua e c'è anche un'altra cosa che io prima mi sono dimenticato completamente chiedo Venia di farvi sentire ovvero le transizioni queste sono importantissime infatti è grave non essermi dimenticato che accompagnano ulteriormente l'unione delle delle parti diverse dei vari blocchetti di canzone per esempio quando noi passiamo dallo stealth al al combattimento io non voglio chiaramente cioè il rischio è quello che io senta senta proprio stroncarsi il brano e cominciare l'altro ma proprio con uno stop in mezzo fastidioso è assolutamente innaturale e quindi a coprire questa cosa ci sono i nostri i nostri suoni di transizione per esempio quando io passo dall'esplorazione alla fase stealth ho deciso di utilizzare un un crash rullato e un piccolo effetto fatto con un pianoforte questo sarà un suono di transizione che si collocherà perfettamente tra la fase di esplorazione e quella di stealth infatti per esempio qui abbiamo quando ci sarà il picco diciamo qui partirà la fase di stealth per questo suono qui ho utilizzato una tecnica di pianoforte contemporaneo diciamo che consiste nel strisciare la corda all'interno della cassa armonica quindi esistono anche questi effetti non convenzionali diciamo questi modi non convenzionali di utilizzare uno strumento il pianoforte viene praticamente adibito a qualsiasi cosa tra percussione cioè viene praticamente martoriato il pianoforte in cinematica il tutto mi forma questo suono tramite questo layering diciamo di due componenti invece quando passo dallo stealth alla fase di combattimento otterrò semplicemente una un bel crescendo di percussioni cinematiche quindi avrò i miei taiko e soprattutto quindi è praticamente pensato come un esamble di taiko drummer che appunto genera il crescendo e poi un'ulteriore flam per appunto per accentuare il fatto che in quel momento scoppia la battaglia infatti nel momento di picco anche qua qui cambia e si trasforma in fase di combattimento andiamo a vedere quindi qui abbiamo le nostre le nostre quattro piccole condizioni che tramite dei game sync per l'appunto che comunicheranno quali azioni devono svolgere come sono impostate avremo quattro possibilità avremo battle explore stealth e victory appunto explore mentre stiamo esplorando quando effettivamente secondo il codice di gioco noi siamo in una fase stealth praticamente wise si occuperà di catturare le game call quindi di catturare quella stringa di codice che dica qui devo riprodurre questo suono questa musica in pratica wise sarà in perpetua comunicazione con il game engine e il game engine darà un ordine dirà ok sta succedendo sta roba adesso c'è la fase di stealth mi serve il suono di stealth e wise dirà arriva e quindi dopodiché battle e tutte le condizioni victory eccetera eccetera il tutto sviluppato in eventi specifici che sono appunto gli eventi che verranno catturati allora infatti se facciamo adesso una prova naturalmente a tutto questo bisogna fare le giuste transizioni per fare un esempio rapido proprio abbiamo la transizione tra l'esplorazione e lo stealth che è immediata ok però ha anche dei piccoli fade al suo interno cosa vuol dire vuol dire che il suono quando una sezione passerà da una parte all'altra quando ci sarà il cambio di sezione e ci sarà anche una piccola dissolvenza quindi praticamente la sezione di esplorazione la musica di esplorazione dissolverà dissolverà verso il basso insomma diminuirà di volume gradualmente e intanto la sezione stealth si alzerà di volume e farà la sua comparsa in modo da rendere il tutto più fluido naturalmente ci sarà anche il suono di transizione in mezzo che si allaccerà esattamente dove io ho detto di allacciarsi quindi nel punto di picco infatti se io provo a togliere tutto ok e a mettere facciamo facciamo finta che dobbiamo passare dall'esplorazione quindi da questa musica qui che adesso comparirà eccola qua allo stealth cioè così facendo non mi piace perché compare subito quindi io inserisco i miei fade riprovo la sequenza che adesso partirà eccola qui stealth una svanisce l'altra entra ma a generare l'effetto finale quello più interessante è proprio la transizione il suono di transizione che io ho importato e quindi da esplorazione quale siamo in questo momento eccoci qui eccola qui passo a stealth e quindi avrò proprio l'idea del suono che entra facciamo una piccola prova nel del tutto partiamo ecco qua questa schermata appunto è il soundcaster che ci consente di simulare il comportamento dei suoni all'interno del gioco ecco sequenza di esplorazione quindi eccola qui parto avrò anche le onde del mare perché sono state introdotte nell'evento qui sezione stealth cambia in qualsiasi momento potrebbe scoppiare il combattimento quindi combattimento combattimento rapido visco questo è ok questo era un piccolo bug del software però facciamo risentire un po' tutto stealth e poi riprende la componente di esplorazione eccola qui infatti l'evento victory fa in modo che io mi allaccio mi riallaccio dopo la vittoria subito alla componente esplorazione da notare che a differenza di dello stealth e del combattimento che arrivano subito e che è immediato il passaggio qui invece abbiamo il fatto che la battaglia passa al suo finale al battle outro soltanto alla battuta dopo per dare l'idea quindi che il tempo il timing del brano venga rispettato perfettamente quindi il brano inizia e finisce dandoci proprio una componente dinamica incredibile e questo per quanto riguarda gli open world facciamo anche gli altri esempi che sono decisamente più brevi di questo allora il secondo esempio è praticamente la classica atmosfera di un gioco horror questa qui è proprio molto meta musicale se vogliamo in un gioco horror cosa succede delle volte abbiamo questo questo paesaggio molto lugubre dove avviene dove c'è un drone di sottofondo che ci dà proprio l'idea di cupo di oh mio dio potrebbe succedere qualsiasi cosa nel mentre noi sentiamo a volte di qua e di là in modo abbastanza binaurale dei suoni dei suoni soffusi che possono essere delle strisciate sui muri delle piccole dei piccoli suoni percussivi darsi l'idea tipo di passi di qualcuno in lontananza nascosto nell'ombra eccetera eccetera ecco per dare per dare ancora più per dare un po' più pathos al tutto per fare in modo anche di creare un'esperienza molto più immersiva e fare in modo che proprio il il giocatore ogni tanto senta un suono da una parte e dice oh cos'è e si giri proprio e giri la telecamera verso quella parte e poi scoprire che non c'era niente che era solo un suono era solo un effetto sonoro messo proprio per attirare la sua attenzione sui vari capitoli di Silent Hill questa cosa viene praticamente abusata ecco per creare questa cosa come facciamo? se noi creiamo una semplice traccia di di percussione cinemessa in un certo ordine però a un certo punto la sequenza ricomincerà e quindi e quindi praticamente chiunque potrebbe accorgersi che quel suono è sempre in quella posizione e quindi qui entra in gioco proprio la componente randomica per esempio io qui ho creato due due droni uniti insieme a creare questo effetto qui molto criptico molto molto orrorifico e poi ho generato tre varianti di suoni creati con il waterphone il waterphone per chi non lo sapesse è la percussione per eccellenza utilizzata nell'horror in pratica è questa percussione che contiene delle lamelle di acciaio che vengono percosse pizzicate strisciate con l'arco di violino e in base al loro utilizzo vengono si ottengono vari tipi di suoni faccio un esempio eccolo qua una strisciata letteralmente sono tutti suoni molto lugubili molto chilling dovete sempre strisciando effettivamente poi ci sono anche dei suoni più percussivi mi pare che qui ce ne fossero questo è molto strisciato vabbè ci saranno anche suoni percussivi eccoli qua sono le varie lamelle che vengono prese pizzicate così c'è delle lamelle tutte intorno e poi ho utilizzato un po' di pianoforte tra virgolette preparato significa che è un pianoforte dove però all'interno tra le corde blocco il suono in una certa maniera mettendoci delle viti degli spessorini insomma in modo che in modo che io non suonerò più un pianoforte ma suonerò piuttosto una cosa del genere questi sono colpi sulle corde queste sono corde strisciate insomma si può fare veramente di tutto per dinamicizzare ancora di più la cosa ho randomizzato un pochino il panning ovvero la componente che mi fa decidere se il suono suonerà a destra o a sinistra infatti se prendiamo per esempio questo suono qua ora chiaramente non lo sentirete da lì ma il suono sta andando prima a destra e poi a sinistra in modo molto randomico implementato all'interno del software noi otteniamo esattamente questa cosa qui abbiamo tutte le varie tracce ok di cui ogni parte di waterphone e ogni parte di pianoforte preparato diciamo ha le sue sottotracce le sue varianti sistemate in random step e quindi io andando a sentire il risultato potrò sentire sempre suoni diversi faccio partire qui sento questi qui ne sento altri qua è venuto lo stesso di prima capita e qui ce ne sono altri ancora praticamente io posso prendere una sottotraccia a caso una sottopista a caso sia di waterphone sia di piano preparato a creare molti tipi di combinazioni diverse tra di loro e quindi a creare una dinamicità che nemmeno il programmatore stesso può aspettarsi è molto molto interessante questa tecnica adesso vado a farvi sentire l'ultimo esempio che è anche il mio preferito ovvero una cosa molto più tipica dei platform o dei metroidvania infatti la composizione la mini composizione che ho fatto preparata appunto per l'occasione è molto in stile hollow night per chi per chi conoscesse per chi avesse avuto modo di giocarci questa è ragionata in un modo ancora diverso quindi praticamente che cosa succede in questi giochi di solito si ha un tipo di musica cioè si ha un tema fisso per il livello che si sta affrontando che avrà un inizio e una fine qui si c'è un inizio e una fine e poi il tema riprende dall'inizio però gli arrangiamenti muteranno a seconda che il personaggio è in un luogo all'esterno il personaggio è in un luogo all'interno oppure il personaggio sta affrontando un combattimento però è sempre lo stesso brano in pratica avrà degli strumenti che suoneranno se è al suo all'esterno per l'appunto questa è più o meno l'idea eccolo qua in questo caso abbiamo sto pianoforte questo pad e un violoncello a farci solo che nel caso io possi all'interno il pianoforte viene sostituito da un'arpa decisamente più leggero ha un ambiente più stretto quindi un pochino più chiuso e avrò un altro tipo di suono diverso da questo e quindi avrò questo passaggio esterno interno tra l'altro un'altra particolarità di sound design sta proprio in questo suono qui questo pad che è usato per gli interni eccolo qua aspetta è qua che in realtà questo suono è un esempio di sintesi granulare cosa che studieremo il suono originale era questo un organo a canne che praticamente se uno sa modellarlo può farci quello che vuole perché l'organo utilizza un po' il principio per creare il suono utilizza un po' il principio delle armoniche di Fourier che studieremo che sta alla base anche di quella che sarà la sintesi additiva che è una tipologia di sintesi unendo questa cosa al tipo di sintesi che preferisco ovvero quella granulare praticamente il suono da suono di organo comune diventa questo diventa letteralmente un pad la sintesi granulare funziona in base a un metodo molto interessante il quale prende dei campioncini del suono piccoli piccoli chiamati appunto grani che vengono che vengono smistati tra di loro praticamente per creare una sorta di nube sonora e che dà vari effetti a seconda di come è stato parametrato di come è stato impostato e quindi ho ottenuto questo risultato interessante dopo di che ho un altro piccolo esempio di strumento utilizzato in modo non convenzionale che ci sarà sempre sarà discostato sia dal gruppo esterno che dal gruppo interno perché ci sarà in tutti e due gruppi quindi che io sia dentro che io sia fuori questo suono lo sentirò sempre questo suono è letteralmente un glockenspiel quindi una sorta di xilofono in miniatura diciamo però con le lamelle in acciaio e non in legno che invece di essere percorso con delle bacchette con delle mazzuole viene strisciato con un arco e quindi otterrò un suono che non sarà più percussivo ma sarà più che altro una specie di feedback tutti i sistemi molto poco convenzionali sono uno strumento che però per le colonne sonore rimangono sempre utili dopodiché c'è la sequenza ovviamente di battaglia nel caso noi in mezzo troviamo anche dei nemici o dei nemici abbastanza potenti quindi dei mini boss diciamo da affrontare allora avremo la stessa sequenza però molto più energica molto più ritmica che andrà ad inserirsi una di queste per esempio quella dell'esterno quindi ora esterno troviamo il nemico e con uno sfumare che dopo vedremo viene ad aggiungersi anche questa sequenza che io qui ho creato utilizzando dei semplici archi in staccato che tra l'altro per unire bene per incollare bene tra di loro ho utilizzato un bass compressor eccolo qui che questa è di acustica audio tra l'altro che è e sarà nel pacchetto di plugin che noi abitualmente utilizzeremo che cos'è un bass compressor e come mai dico che questo componente può permettermi di incollare tra di loro vari tipi di strumenti e farli sentire meno discostati questo lo impareremo nel corso ma non sarò io a spiegarvelo bensì sarà il buon Francesco dopo di che dopo ecco altro modo non convenzionale di suonare uno strumento questi sono letteralmente dei tom ma suonati nei bordi cioè quindi io non farò il mio groove nella pelle del tom dove c'è la risonanza dove c'è il suono ma bensì nel bordo nel bordo d'acciaio che appunto farà farà questo tipo di suono in quanto per una parte del genere far suonare un tom bello battagliero sarebbe stato troppo troppo ingombrante un suono troppo grosso per una parte come questa che deve essere sì energica ma sempre mantenendo un po' il mood sognante che c'è che c'è per l'appunto di default e quindi ho optato per una percussione leggermente più flabile leggermente più distaccata tanto comunque a fare diciamo un po' il gradasso nell'arrangiamento è il nostro amico Taiko così è normale così è riverberato quindi a crearmi ancora più atmosfera al tutto più avanti ho fatto anche una piccola variazione nel tema che adesso sentiamo per farmi accompagnare di più ho utilizzato anche qui gli armonici dei violini molto flebili però a darmi quel tocco di consistenza in più e adesso andiamo a vedere come questa cosa va a implementarsi nell'audio engine allora molto semplice vado a vedere il livello adattativo eccolo qui ecco io praticamente ho importato letteralmente tutte le tracce del brano e le ho sistemate in base a delle condizioni specifiche che ho inserito qui eccole qua praticamente ho creato la condizione inside outside che mi dice semplicemente se il personaggio si trova dentro o fuori quindi praticamente nel gioco ci sarà una parte di codice che mi dirà Wise il personaggio adesso è fuori e Wise farà partire farà inserirà questo switch e dirà benissimo la condizione è il personaggio è fuori e qui invece c'è la condizione se il personaggio sta effettivamente affrontando una battaglia oppure sta ancora esplorando il tutto viene naturalmente unito al segmento musicale e a tutte le sue tracce infatti vediamo che per ogni pista ci sono due sottopiste abbiamo la nostra traccia e due sottotracce una outside e una inside oppure una outside e una inside vuota il che vuol dire che questo strumento qui è presente soltanto quando il personaggio è fuori e quando è in un interno non c'è nulla questo non suona e avanti così per tutti i vari scopi infatti qui per esempio abbiamo assegnato i vari vari gruppi di switch e adesso andiamo a verificare che cosa succede andiamo quindi fare una prova del livello adattativo allora sistemiamo le condizioni di partenza adesso come partenza voglio voglio che effettivamente il soundcaster mi simuli il comportamento nel caso il personaggio sia in uno spazio all'aperto e che stia facendo la sua esplorazione adesso cambierò questi parametri in corso d'opera facciamo partire sequenza di esplorazione all'esterno adesso cambio vado all'interno sto entrando in un edificio ecco qui torno fuori adesso battaglia il tutto completamente dinamico finisce la battaglia sparisce la musca di battaglia e quindi questa è un'altra tipica implementazione quindi praticamente tutte le tracce stanno agendo all'unisono vengono vengono monitorate tutte quante solo che nel momento in cui c'è lo switch si cambia da una all'altra e avviene diciamo la magia in un qualche modo notare anche che nelle transizioni come al solito ho voluto mettere un certo tipo di di fade in fade out tra tra le varie tracce per l'appunto onde creare una sorta di di situazione transitoria insomma che non ci sia uno stacco netto anche qui ma che ci sia ci siano le due tracce che sfumano una sfuma e l'altra entra praticamente quindi queste sono soltanto alcune delle cose che vedremo nel corso del biennio legate al mondo videoludico per esempio quindi io direi che posso interrompere la condivisione perché ho detto praticamente tutto quello che dovevo dire praticamente abbiamo parlato di tante cose abbiamo parlato di alcune tecniche utilizzate nella musica cinematica in generale e altre appunto che vengono utilizzate proprio nel sound design proprio tipico sia per la creazione di effetti sonori particolari sia implementati all'interno della colonna sonora e poi come il tutto viene implementato e ragionato a seconda della situazione che il gioco mi richiede quindi se avrò l'open world sarà in un modo la musica sarà da pensare in un modo è un platform sarà da pensare in un altro modo e così via dipende sempre dal progetto in cui ci si trova e qui concludo beh direi due ore filatissime quasi interessantissime Alex io ti ringrazio io ricordo a tutti che questo video fortunatamente rimane nella sezione video del profilo di scuola comics Padova in facebook ma lo trovate anche su youtube e di tanto in tanto anche anche su instagram e ogni tanto si gira anche qualche altro social quindi per chiunque dove se non averlo visto per tanti motivi può sempre comunque rivederlo riascoltarlo anche all'infinito se ha voglia io ringrazio tantissimo Alex ringrazio tutte le persone che sono state con noi e viete alla prossima ciao alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.